Allora amici carissimi vi faccio vedere le schedine che ho giocato questa Torino e Venezia come promesso e questa sulla nazionale che Dio ce la mandi buona ragazzi come promesso nel video precedente vi mostro gli scontrini prima dell'estrazione anche il retro ovviamente e questa su Torino-Venezia, Ambo e Ambetto e questa nazionale Ambo e Ambetto giro la schedina sul retro d'accordo ragazzi? Una e una sono due quello che vi ho detto nel video ragazzi a tra poco dopo l'estrazione speriamo in bene, incrociamo le dita e buona fortuna a tutti ciao ragazzi a dopo, un bacione